Oggi ho firmato la lettera apostolica Sacrae Scripturae Affectus nel sedicesimo centenario della morte di San Girolamo. L'esempio di questo grande dottore e padre della Chiesa, che ha messo la Bibbia al centro della sua vita, susciti in tutti un rinnovato amore alla Sacrae Scriptura e il desiderio di vivere in dialogo personale con la parola di Dio.